Quando chiami un imbianchino genetico, perché non è che esiste un imbianchino antimuffa, la prima cosa che ti propone è, come ci hanno confessato anche in forma non in alcuni imbianchini pentiti, è che anche loro hanno preso il prodotto igienizzante del loro progettifizio di fiducia e hanno citturato l'antimuffa. L'ha fatto già il quadrone di casa, quindi non è che c'era bisogno che lo rifacessi anche un imbianchino, ma magari applicandolo in maniera un po' più professionale può darsi che il lavoro visse meglio. Purtroppo i risultati sono identici. Altra cosa è quello di rimuovere il problema in maniera fisica e totale, quindi ho delle macchie di muffa sui muri, prendo il mio pen flessibile, tolgo tutto, strati di intonaco, di pittura di muffa, sollevo un bel polverone e ammazzo la muffa. Peccato che questa cosa, oltre che rovinare i polmoni dei muratori e applicatori, è veramente pericolosissima. Durante l'intervento ho mediamente un anno, perché come finisce l'effetto della pittura antimuffa, finisce, come dire, l'incantesimo. Tutto molto bello anche qui, ma abbiamo parlato degli altri, abbiamo anche parlato un po' male degli altri, ma noi cosa facciamo di meglio? C'è catalogare il nostro trattamento su tre pilastri. L'analisi del caso, cioè cerchiamo di capire qual è il problema del nostro cliente, l'elaborazione di un trattamento su misura e il fatto che ci debba essere una garanzia di tre anni, che secondo me è un pilastro molto solido. Come funziona l'analisi del caso? No analisi, no soluzione. Ritornando a quello che era il nostro primo comandamento, ovvero, se non possiamo studiare il tuo caso e capirci di più, che soluzione ti possiamo dare? Stiamo solo vendendo qual è il nostro. Il secondo pilastro è l'elaborazione di un trattamento su misura. Tutto questo bel teatro ovviamente non funzionerebbe se poi non portasse a una soluzione che sia personalizzata per te. Cosa si intende il trattamento su misura? Uno, fornirti soltanto i materiali che ti servono. Quindi, zero sbagli, hashtag zero sbagli. Cioè, non devi comprare dei prodotti che non ti servivano, lo hai già fatto. Regola numero due, trattamento su misura perché le quantità sono precise. Terza cosa, è su misura perché questo trattamento non comprende soltanto la lattina di pittura che ti arriva a casa, ma comprende un kit con tutti gli accessori che serviranno. Come dicono i nostri ragazzi più giovani, zero sbattimenti, insomma. Era l'unica espressione che mi venisse in una parola, penso che è abbastanza chiara. Grazie. 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 Grazie.